Pronta la delibera comunale che dovrà essere approvata, presto partiranno i lavori per la messa in sicurezza della così chiamata strada della morte, quella che da Torre Lapillo conduce a Porto Cesario e che purtroppo, solo qualche settimana fa, è stata ancora una volta a teatro del tragico incidente che costato la vita alla giovane turista bolognese 23enne, Anna Enorta. A ribadirlo alla luce di quanto accaduto dopo il vertice in prefettura con il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, che aveva annunciato... Interventi traumatici che sono previsti pure dal codice della strada, tipo la chiusura di quel tratto stradale, che sarebbe un danno per tutti. E il vice sindaco del comune di Porto Cesario, Antonio Greco. Noi come amministrazione ci stiamo attivando e in questi giorni stiamo emettendo in messa in sicurezza della strada con l'illuminazione, i dissuosori e segnaletica orizzontale e verticale. Poi stiamo definendo leader progettuale del progetto ed è stato già inserito nel programma delle opere pubbliche da realizzare in quest'anno. Da subito saranno dunque installati dissuosori di velocità più illuminazione e una protezione per i pedoni ai lati della strada. Entro dicembre tutto il resto, compresa la realizzazione del marciapiede. Ma ad essere messa in sicurezza sarà l'intera strada che collega Lecce alla località Ionica. Con uno stanziamento di 5 milioni di euro che arrivano direttamente dal Cipe, verranno realizzati quanto prima, si spera, 6 rotatorie. La prima dopo il velodromo degli Olivi, poi dopo il ponte all'altezza dell'incrocio Carmiano-Copertino. Terzo rondò all'ingresso di Leverano che avrà anche altre 3 rotatorie all'incrocio semaforico per Carmiano e Veglie e all'uscita del paese incontrata a Sant'Antonio. Ad essere adeguati saranno poi 3 incroci critici all'altezza del curvone nella località Albaro, Pituini Manieri e Ascanio, dove verranno realizzati anche due complanari.